Signor Presidente della Repubblica, autorità tutte, signori Presidenti e rappresentanti delle regioni italiane, è con immenso piacere e altrettanto onore che vi rivolgo il benvenuto della città di Bari. È per me un autentico privilegio, signor Presidente, porgerle un saluto particolare e riconoscente. Bentornato a Bari. Mi consentirete se in apertura di questi lavori rivolgerò un pensiero affettuoso, carico di sentimenti di vicinanza al Sindaco della città metropolitana di Bologna, Matteo Lepore, e alle popolazioni di quella terra che stanno vivendo in queste ore drammaticamente una nuova emergenza maltempo. Signor Presidente della Repubblica, non è trascorso neanche un anno dall'ultima volta in cui l'abbiamo accolta in questo teatro. Era l'ottantesimo anniversario del primo congresso dei comitati di liberazione nazionale, che proprio qui nel Teatro Piccini, il 28 e il 29 gennaio del 1944, gettò le basi dell'Italia libera e democratica. Ma tante altre sono state le occasioni in cui lei, Presidente, ha testimoniato la sua vicinanza e la sua partecipazione alla nostra comunità. E di questo non possiamo esserle che grati, perché a queste latitudini siamo abituati a non dare nulla per scontato. Ringrazio la Conferenza delle Regioni, il Presidente Fedriga e in particolare ringrazio il Presidente Michele Emiliano, che ha voluto fortemente l'organizzazione di questo importante evento qui nel capoluogo pugliese. Del resto la vicinanza del Presidente Emiliano alla nostra città la avvertiamo quotidianamente. In questi anni siamo cresciuti insieme, caro Michele, tu, Bari, questo teatro finalmente ristrutturato e restituito alla città, sempre cercando di dare del nostro meglio per rendere la nostra una comunità più forte e più unita. Un benvenuto a tutti voi, graditi ospiti di questo Festival. Mi auguro che in questi giorni abbiate modo di conoscere meglio Bari e di apprezzarne le bellezze, il calore e quei tratti tipici dell'accoglienza pugliese, ormai famose in tutto il mondo. La nostra è una città che ha praticato l'accoglienza fin dalla notte dei tempi. Questa è la città che nell'agosto del 1991 ha aperto il proprio cuore ai 18.000 albanesi della Vlora. Questa è la città di San Nicola, vescovo di Mira, giunto dal mare, testimone di valori di straordinaria attualità, solidarietà, fratellanza fra popoli e pace. Per questo sentiamo come nostro dovere ribadire ancora una volta l'urgenza della pace, come valore universale e come pratica quotidiana. Non possiamo restare indifferenti davanti a migliaia di civili inermi che continuano a morire sotto le bombe nei teatri di guerra sparsi nel mondo. Questo non è il mondo che vogliamo, non è il mondo che vogliamo lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti, non è il mondo che avevano immaginato le donne e gli uomini che qui in questo teatro 80 anni fa si ritrovarono insieme per tracciare la strada della libertà e della pace e per superare le atrocità della seconda guerra mondiale. E oggi proprio in questo luogo così suggestivo, così simbolico, ci ritroviamo per l'avvio di un festival, di un confronto serrato tra regioni, istituzioni locali e le altre istituzioni nel tentativo ambizioso di dare un contributo al futuro del nostro Paese. E per farlo non possiamo che partire dalle parole del testo che ancora oggi, nonostante i suoi 76 anni, è capace di ispirarci e guidarci nel nostro lavoro come nessun altro testo. Mi riferisco ovviamente alla nostra Costituzione, la più bella del mondo, perché è nata proprio da quell'insopprimibile bisogno di libertà, di democrazia e di solidarietà che si respira in ogni suo articolo. Il 2 ottobre del 1946 in Assemblea Costituente Giorgio Lapira definì il concetto di libertà legandolo a quello di solidarietà e sostenne che ogni libertà è fondata sulla responsabilità verso l'altro. La solidarietà dunque altro non è che l'assunzione personale di responsabilità nei confronti della dignità di ogni uomo, quindi un dovere dei singoli per concorrere al benessere collettivo. E proprio questo principio di solidarietà ricorre in tutta la nostra Carta Costituzionale. La solidarietà legata ai concetti di unità e coesione, come ribadito esplicitamente nell'articolo 119, il cuore pulsante del titolo V. Proprio il dettato di quest'articolo è quanto mai attuale per ricordare a me stesso e a noi tutti che il nostro Paese riconosce nelle autonomie il rispetto delle identità e dei territori, ma ne lega lo sviluppo e il futuro a quei principi citati nella Costituzione, coesione e solidarietà. Principi che tutte le istituzioni della nostra Repubblica sono chiamate a praticare ogni giorno nel solco di quei diritti e di quei doveri che sono alla base dell'Italia democratica. Perché come scriveva Calamandrei, la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. Perché si muova bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse e la propria responsabilità. Questa è la nostra missione quotidiana, l'unica possibile. Offrire l'energia del nostro impegno affinché quei concetti solidarietà e coesione si trasformino in politiche e strumenti di crescita per le nostre comunità. Anche per questo ci auguriamo che la firma prevista in questi giorni del patto con la Puglia sui fondi di coesione non tardi ad arrivare. Ce lo chiedono le nostre comunità che ormai attendono da mesi. Non ne facciamo una questione politica, ma è un nostro diritto in ragione proprio dei principi costituzionali. Mai come oggi i cittadini hanno bisogno di un segnale di unità da parte nostra. Governo, regioni, comuni, tutti dobbiamo lavorare nella stessa direzione per garantire la tenuta sociale del nostro Paese. La mia non è una richiesta di parte, né una rivendicazione meridionalista. La mia è una richiesta da uomo delle istituzioni che oggi si rivolge ai massimi rappresentanti di questo Paese affinché si agisca con responsabilità e lungimiranza. Vicine vicine è il titolo di questo Festival delle Regioni. Si riferisce certamente allo spirito che deve tenere unite le regioni italiane per affrontare le grandi sfide del futuro, ma per noi quelle parole, vicine vicine, rappresentano un auspicio per il futuro, soprattutto se pensiamo a rischio incombente che si creino ulteriori distanze tra territori, tra regioni e tra cittadini. Perché per noi le uniche differenze possibili sono le straordinarie ricchezze e peculiarità che distinguono ogni territorio della nostra bellissima Italia. Questo è il miglior augurio che sento di rivolgere a questo Festival e a tutti noi. Continuiamo a tenerci vicini vicini. Grazie e buon lavoro. Grazie.